Ciao, medita in 5 minuti. È possibile veramente meditare in 5 minuti giusti. Per meditare in 5 minuti cosa devi fare? Beh, intanto, allora, devi servire prima un training. Io ho fatto diversi video che ti invito a seguire sulle meditazioni, su come indurre uno stato di coscienza. Una meditazione fatta di due parti, volendo tre. La prima parte è arrivare in uno stato di coscienza profondo, quindi terreno fertile. La seconda parte è indirizzare la nostra mente, seminare, seminare praticamente. Quindi indirizzare la nostra mente verso dei pensieri positivi. Normalmente, se uno riuscisse a meditare indirizzando i suoi pensieri verso l'amore per se stesso e l'amore per gli altri, avrebbe già risolto tutti i problemi della sua vita, comunque iniziare a risolverli. Va fatto, vanno indirizzati però nel terreno fertile. Quando il terreno è fertile e non quando il terreno non è fertile, quindi deve arrivare allo stato di coscienza. La terza parte, poi se vogliamo, è ritornare ad uno stato di veglia. Quindi, per entrare in uno stato di coscienza profondo, ad esempio, puoi concentrati sul respiro, sentire l'area che entra e cresce dai tuoi polmoni, chiudere gli occhi, sentire la pesantezza del tuo corpo. Prenderti conto che ad ogni respiro il tuo corpo diventa più pesante. Via via che il tuo corpo diventa più pesante, il tuo respiro diventa sempre più calmo e regolare. Tu entri in uno stato di coscienza profondo, mentre sei in questo stato di coscienza profondo, con gli occhi chiusi, puoi esprimere sentitamente il desiderio, io desidero essere felice e io desidero che tutti gli esseri siano felici. Esprimelo in modo profondo, in quello stato di coscienza, ti porterà un beneficio enorme. Questo è quello che deve avvenire. Quindi, due minuti servono per la prima parte, due minuti servono per la seconda parte e un minuto serve per ritornare sul respiro, respirare normalmente, muoverti, riaprire gli occhi. È ovvio che tutto questo richiede un training, un training iniziale, per arrivare poi a meditare veramente in cinque minuti. Il training iniziale richiederà che prima devi accedere allo stato di coscienza, devi esercitarti tante volte, quando in due minuti riesci ad accedere allo stato di coscienza. Ci vorrà un training, può durare un mese, dipende un po' dalle capacità. E poi devi abituarti a direzionare la tua mente verso l'amore per te stessa e l'amore per gli altri. Anche qua, inizialmente ci vorrà un po' di più che due minuti, perché la mente tende a fuggire. E poi, quando avrai domato la tua mente, potrai veramente meditare in cinque minuti e otterrai dei benefici di cui non ti puoi, neanche la tua più fervida immaginazione si può rendere conto. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!